Il tema dei mobile payments è importante, si può approcciare portando una forte innovazione se si riesce ad arricchire la relazione di pagamento con tutta una relazione che il cliente può avere sia con il merchant che direttamente con le proprie bisogni, condividendo socialità, condividendo emozioni. La position è realmente quella di poter integrare una diversa relazione tra cliente e merchant. Abbiamo anche quest'anno scovato start-up interessanti, stanno crescendo bene sopra le due cifre, c'è spazio quindi e poi è chiaro, agendo localmente si arriva a una certa dimensione sia di raccolta e finanziamento che di mercato agendo invece a livello globale la partita diventa molto diversa. Anche in Italia c'è interesse, è possibile ottenere finanziamenti, finanziamenti di SIDA anche i round interessanti. Tra queste c'era anche un'iniziativa partita da un italiano che però ha già fatto tutta un exit ed è stata acquisita da Power Technologies e qui in questo caso abbiamo visto un'iniziativa che ha già raccolto 170 milioni di euro, ne sta raccogliendo altri 300, sta operando basata sul mercato, a questo punto il mercato asiatico, sta operando a livello globale, una dimensione di scala interessante. Ecco, qui si entra in una nuova dimensione, qui stiamo parlando di chi vuole operare da subito con un mercato globale.